Roberto Formigoni non riferirà in aula sui casi scottanti legati alla sanità lombarda sotto indagine da parte della procura di Milano. Il presidente di Regione Lombardia via Twitter ha fatto sapere che le 15 delibere al centro delle inchieste sono perfettamente regolari, smentita così la voce che circolava nelle ultime ore di un suo intervento davanti all'aula consigliare. Si sono riaccese alle 7.30 di questa mattina le telecamere di Area C, task force dei vigili urbani agli ingressi sui bastioni. Dopo quasi due mesi di blocco imposto dalla sentenza del Consiglio di Stato riparte la congestion charge con regole sostanzialmente invariate. L'unica novità riguarda il giovedì con orario più corto e telecamere spente alle 18. Il GUP di Milano ha rinviato a giudizio con l'accusa di omicidio preterintenzionale quattro poliziotti che avrebbero percorso ripetutamente nel corso di un arresto a Milano il 30 giugno 2011 Michele Ferrulli quando era già immobilizzato a terra. L'uomo manovale facchino di 51 anni, quella sera morì per arresto cardiaco. Il giudice ha riqualificato l'ipotesi di reato da cooperazione in omicidio colposo ad omicidio preterintenzionale. E' attivo da oggi il nuovo servizio Lombardia Express di Trenord che garantirà collegamenti veloci tra la stazione centrale di Milano e Bergamo in 38 minuti e con Varese in 46 minuti. Per ora sono presenti due collegamenti giornalieri con le fermate intermedie di Lambrate sulla tratta Milano-Bergamo e Garibaldi sulla tratta Milano-Varese. Rischio truffe per gli immigrati che cercano di essere regolarizzati con la sanatoria. La Camera del Lavoro di Milano ha denunciato i primi raggiri compiuti nei confronti degli stranieri. Molti gli intermediari che propongono documenti falsificati per ottenere la regolarizzazione chiedendo centinaia di euro. Intanto CGL ha aperto uno sportello che fornisce consulenza ai datori di lavoro e ai dipendenti stranieri. Aprirà domani il registro per le unioni civili. 18 le coppie pronte a celebrare l'iscrizione all'interno degli uffici comunali di Via Larga. Tra loro quattro unioni omosessuali. Nessuna cerimonia speciale e solo un attestato che costerà 15,14 euro più altri 14 euro per il bollo statale. Andrea Stramaccioni soddisfatto per la vittoria dell'Inter che ieri sera sconfitto il Torino per 2-0 con gol di Milito e Cassano. Dopo il KO contro la Roma era importante tornare a vincere subito per rispondere al trio di testa ha dichiarato l'allenatore Nerazzurro. Intanto in casa Milan dopo la sconfitta contro l'Atalanta Galliani rassicura Allegri. Il tecnico non è in discussione per l'amministratore delegato Rossonero.